In campo puoi vincere e puoi perdere, ma ci sono cose nella vita che contano più di ogni altra. Sono i nostri valori, la nostra identità, l'idea del mondo in cui vogliamo vivere. Al di là dei risultati, al di là dell'età, al di là del genere, della religione, dell'orientamento sessuale, al di là del colore della pelle, ogni vita conta allo stesso modo. Questa è la realtà in cui vogliamo vivere, in campo, nella vita.